L'occasione è preziosa perché abbiamo la Madonna Lia in prestito al Castello Sforzesco di Milano assieme a altre opere che vanno a raccontare per epitome brevemente la storia di Leonardo nel suo spostamento tra Firenze e Milano. Leonardo arriva a Milano nel 1482 ed entra subito a servizio del Duca, di Ludovico Sforza e la Madonna Lia al compimento di questo rapporto fra loro due, cioè questo dipinto che lo Sforza chiede a Leonardo nel momento in cui ottiene l'investitura imperiale del suo ruolo di Duca. Quindi un dipinto eccezionale. Grazie alla generosità dei colleghi milanesi abbiamo potuto quindi mettere in dialogo opere della collezione e opere appunto provenienti dai prestiti che raccontino la premessa all'arrivo a Milano, quindi Firenze e gli anni fiorentini, cosa vede Leonardo quando arriva a Milano e come cambia veramente la percezione figurativa alla presenza di Leonardo a Milano. per approdare infine appunto la Madonna Lia. Questa è stata un'occasione per riallestire anche la quadreria del Cinquecento, quindi in qualche modo la presenza della Madonna Lia è un viatico per affrontare la sezione rinascimentale dei dipinti nel nostro museo. Ecco, non solo la Madonna Lia, quali saranno gli altri dipinti in esposizione? Sono dipinti degli allievi, abbiamo uno splendido Marco D'Oggiono, fra gli allievi di Lettia, insieme a Gian Pietrino, che è presente con una versione della Vergine delle Rocce, il dipinto forse più celebre assieme al Cenacolo del momento milanese. Leonardo viene impiegato immediatamente in grandi operazioni militari per il Duca, per gli abiti di corte, per gli apparati di festa, per il monumento all'equestra al padre Francesco che mai porterà a compimento e i numerosi dipinti che esegue appunto il momento milanese sono ottimamente rappresentati appunto da Gian Pietrino e Marco D'Oggiono, che sono fra i più dotati allievi, assieme a Francesco Napoletano, che è l'autore principale della Madonna, chiamata appunto Madonna Lia. Sarà visitabile a partire da domani, cioè dal 19 febbraio, domani sarà una giornata di apertura gratuita, l'intera giornata di apertura gratuita, e resterà attiva fino al 26 giugno. Abbiamo voluto questa mostra proprio per far vivere gli spezzini, i turisti che vengono qua, il periodo di Milano, di Leonardo. Leonardo che dalla Toscana va a Lombardia a realizzare capolavori, che con i suoi aiutanti, la sua scuola, i suoi allievi, hanno dipinto cose stupende. Abbiamo la fortuna di averne qua diverse, la più importante è la cosiddetta Madonna Lia, un dipinto unico, uno tra i più belli al mondo, un'emozione veramente incredibile che proprio ci accompagnerà per questi mesi e sarà visitabile da parte veramente di tutti gli spezzini, che si ricorderanno per sempre l'emozione che dà questo quadro, che dà questo dipinto, che dà chiaramente, come ogni dipinto, le opere di Leonardo da Vinci.